Il solo fra è stato ripescato in eccellenza, i conciari di Francesco Messina il prossimo anno faranno compagnia a Sant'Ommaso e Cervinara nel massimo campionato regionale. Una buona notizia per la formazione giallo-blu che adesso sogna di ingaggiare la punta Mallardo, ex attaccante di Cavese e Battipagliese. Nel frattempo sono stati definiti i gironi e le date della Coppa Italia di Lettanti. Si partirà il 3 e il 4 settembre, mentre la seconda giornata verrà giocata mercoledì 7. Una settimana dopo invece ci sarà il terzo turno, 7 gironi che riguardano le formazioni Irpine in gara. Bisaccese, Sant'Ommaso, Baiano, Virtus Avellino, FC Avellino, Vissariano, San Martino, Audax, Cervinara, Scandone, Montella, Serino, Solofra, Eclanese, Grotta e Siconolfi. Alla prima giornata il Baiano di Sgambati affronterà il Portici, derby tra Bisaccese e Sant'Ommaso allo Scotece. L'Ariano di Bomber Capodilupo aspetta la Palmese, il Cervinara farà visita all'ambizioso Accadia, l'Eclanese al fronte rinascita Vigo. Solofra di Messina invece farà visita al Grotta.